Come è una cooperativa agricola di conduzione? Sorgeva è una cooperativa agricola di conduzione, quindi gestisce terreni di proprietà e parte in affitto per un'estensione che oggi è intorno ai 4.000 ettari. Come è una cooperativa agricola di conduzione? La cooperativa è di avere un consistente patrimonio costituito dalla proprietà dei terreni oltre a una serie di immobili che è di gran lunga superiore come valore a quello dei propri debiti. Siamo di fronte a difficoltà economico-finanziarie per affrontare le quali i soci hanno approvato nel novembre scorso un piano di risanamento per poter praticamente azzerare l'indebitamento oneroso. Il risultato di questa operazione porterà, la stima è già a partire dal 2010, ad una situazione di completo risanamento. Il futuro dell'azienda è legato al successo dell'attuazione del piano che stiamo realizzando. Il nostro piano prevede un rientro finanziario di 38 milioni di euro, siamo già arrivati a oltre 25 milioni. Legato a questo rilancio ci sarà anche un consolidamento della base sociale, quindi con l'apertura all'adesione di nuovi soci, così come ad una verifica rispetto alla possibilità di una fusione con la cooperativa Giulio Bellini di Filo di Argenta. Però stiamo parlando di un piano a medio termine, quindi 2010.